A Milano il 21 marzo è andata in scena la protesta contro l'ultimo decreto che ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Il tutto su iniziativa della rete nazionale Scuola in Presenza. A scendere in piazza a Milano centinaia di insegnanti, ragazzi e genitori, anche dei bambini di materno e elementari che a settembre erano stati risparmiati dalle chiusure. Sulli zaini appoggiate a terra i messaggi degli studenti per le istituzioni, mentre il forte suono delle campanelle chiede di tornare in classe. Poco distante a Parco Sempione si mobilita invece la protesta del comitato Priorità alla Scuola, caratterizzata invece da musica, spettacoli, danze e laboratori artistici. Il senso della giornata sarebbe quello di proporre, in un momento in cui le famiglie sono in difficoltà, un momento di svago per i più piccoli, un'occasione per sfogarsi dopo le lunghe giornate di dad. Così, cercando di rispettare il distanziamento, i bambini giocano, cantano e ballano tutti insieme. E intanto genitori e insegnanti si alternano dal palco del Teatro Burri, per chiedere l'impegno del governo per una ripresa sicura delle lezioni, almeno per i più piccoli.